Ho capito, ho capito! Aspetta, Nesquik! No, si insuppa! 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 Bella a tutti ragazzi! Benvenuti in questo nuovo video di oggi! Di cinque anni! Io sono un nuovo youtuber! E oggi vi mostrerò un po' di auto mie! Perchè, come vedete, sono una sessione solo in viti! Perchè non mi faceva entrare in G2Live con tante persone! Io oggi volevo fare un po' di canseggio! Poi ho cambiato idea! Allora, ora vi faccio vedere queste macchine! Abbiamo la Progenti 20, Osiris, Adder, Entity, Poi qua ho una motocicletta, la Bati 801RR, la Z-Type, la Z-Type, come volete chiamarla! La Kino, Vapid Kino, poi il Rot-Rod, Rot-Rod Blazer, poi abbiamo il Dubsta 6x6, e poi ci vediamo al prossimo garage ragazzi! Adesso vi faccio vedere i vestiti! Non ci vediamo al prossimo! Se vedete qualcuno davanti è mio fratello che rompe! E lui mi rompe quando faccio i miei video! La faccio uno! Ok ragazzi, scusate per il mio fratello! Allora, prendiamo, vedete i miei vestiti? Questo qua è moddato, sta accanto! Poi questo qua, guardate, bellissimo! Poi questo, questo qua, grande, poliziotto! Poi, se vedete, comunque vedete, questo qua è invisibile, però solo che un bagno dei pantaloni si mette davanti e non è tutto invisibile! Questo qua è pure tutto invisibile solo con le braccia! E questo qua è con il bavetto, non so... Allora, questo qua è da stasì! Scusate, devo vedere! No, aspetta un attimo! Ecco, io mi tengo questo e... Cosa facciamo? Non lo so! Andiamo un po' in giro a uccidere tutto! Vediamo un po' qua! Allora, io sono di livello 125 e mi chiamo sul canale Text35 Text35 mi chiamo! Allora, poi abbiamo... Io ho il rango di 125, poi... 877.000 dollari perché le ho spesi per queste macchine, ma non è finita la macchina! Andiamo al prossimo garage! Ed eccoci qua di nuovo, ragazzi! Sono entrato nel mio secondo garage! Non fate caso a queste macchine di cacca o di merda, perché veramente sono di merda queste! Poi guardate questa qua! Io vado ad impazzire! È un auto love rider bellissimo! Però solo che sto su 360, Xbox 360 e non la posso modificare love rider! Mi dispiace davvero! Allora, comunque il mio nome è arscentre0312! Chi mi vuole contattare mi può contattare su Xbox 360! Se mi volete contattare sempre su arscentre0312 che già ho detto ora! Comunque commentate, condividete e mettete un bel like! E vi porterò anche altri video e altri giochi! Arriviamo massimo a più di 7 like! Se no non posso fare niente! Allora, perché... 7 like va bene! Poi non lo so! 10, 12! 10, 12 quello che volete! L'importante è che mi date sostegno! Ok, allora! Adesso, come vedete, più tardi farò un altro video con i miei amici! Non so cosa faremo! Ma... Non so con chi! E vi... Se riuscirò a capire come mettere in descrizione la roba! Vi metterò anche il canale xshot35 che è un mio amico youtuber! E... Comunque! Lasciate un like! Condividete! Commentate! E qui... E iscrivetevi! Mi raccomando! Date un po' di sostegno! Per piacere! Grazie a quelli che mi mettono like e commenti! Grazie! Ci vediamo! Al prossimo video! Bella ragazzi! Ci vediamo! Al prossimo! Bella ragazzi! Al prossimo video! Bella ragazzi!